Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel romanzo storico per ragazzi, ma non solo, dal titolo Polvere di Vipera di Annalisa Ponti, appena pubblicato da Ancore Edizioni e io lascio subito come mia abitudine la parola all'autrice perché ci parli di questa polvere di vipera, già nel titolo c'è un bel interesse. Quindi Annalisa, benvenuta e a te la parola. Grazie mille Maurizio, come al solito sei molto ospitale e ospitale ovviamente gli amici di Italia Medievale. Di che cosa? Sono molto contenta di presentare questo libro perché è il mio terzo libro Medievale per ragazzi. Ma questa volta, diciamo, è stato per me una progressiva scoperta perché avendo avuto, come dire, una volta avendo avuto l'impegno con la casa editrice di scrivere un giallo. Mi era stato, ero stata incaricata di scrivere un giallo in Medievale. Francamente era tutto molto generico. Ho potuto, come dire, scrivere questo libro mi ha dato l'occasione di studiare, approfondire un sacco di altri temi del medioevo che con i libri precedenti non avevo, non avevo toccato. Eh l'ambientazione è la Napoli, eh un'ambientazione scelta un po' a caso, se devo dire la verità. È la Napoli del dodicesimo secolo, quella, diciamo, degli Altavilla, francamente. Eh una Napoli di cui c'è pochissima documentazione storica perché eh la città poi è stata trasformata successivamente e non è più la grande città del Tardo Antico ma non è ancora la capitale che diventerà successivamente per cui con poca documentazione non ne ho trovato sul sul contesto eh architettonico, urbanistico, eccetera, però una città che è molto vicina a Salerno e ho pensato di dare spazio in questo mio libro al come dire a quello che sono riuscita a trovare riguardo alla medicina medioevale e ovviamente alla scuola medica di Salerno perché in questo contesto della scuola medica di Salerno c'era comunque la figura di Trotula e quindi avrei potuto sfruttando eh questo esempio eh che mi sembra sempre più storico che non eh che non leggendario come qualche anno fa ancora sembrava per trovare un contesto dove far muovere le mie protagoniste perché ancora una volta eh le mie protagoniste sono due giovani ragazze quasi sulla soglia di diventare donne anzi poi le incontreremo una volta diventato adulte per cui il contesto è non Napoli medioevo farmacopea e da qui polvere di vipera farmacopea e medicina medievale una medicina alta cioè come dire eh tutti i miei personaggi si muovono eh tenendo conto del come dire di di una prescientismo che in effetti anche nella medicina eh antica era presente una cosa che che mi ha colpito moltissimo e che poi proprio ho trovato conferma anche su libri di recente questa eh cura come dire l'occhio del medico e del eh dell'esperto in medicina riguardo alla alla malattia e al rapporto col malato che sembra quello di un medico contemporaneo insomma la medicina del medioevo deve molto alla alla medicina antica a quella greca in particolare eh però nella scuola di Salerno vengono proprio ripresi a fianco naturalmente di eh concetti un po' fantasiosi da cui anche il polvere di vipera diciamo che viene eh che 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 è uno degli elementi eh di il di tanti farmaci fantasiosi però c'è tutto un contesto già dalle dagli scritti di trotola viene fuori di attenzione al paziente che sono di straordinaria modernità eh i temi generali in in realtà diciamo questo è il contesto storico eh quindi il titolo che viene dalla una delle mie protagoniste si troverà a un certo punto a essere il braccio destro di un di un famoso speziale di Napoli sono tutti i personaggi inventati e e poi in realtà per vari casi adesso facciamo una spoilerata ma finirà per diventare anche lei una magistra cioè un medico eh non ancora laureato perché la scuola di Salerno verrà formalizzata da Federico II che non è ancora nato ma che come dire è già un po' nel in cantiere perché in questo contesto più generale questi due personaggi e questa storia legata ad avvelenamenti e a cure eh in realtà incontra in più a più riprese la storia generale e anche questo questo è stato come dire il mio eh il mio divertimento vero nel cominciare un libro in modo un po' generico per cui avevo una trama dovevo trovare un giallo c'è ho questo giallo a un certo punto l'ho individuato in un tema che è un tema medievale ma purtroppo è un tema molto presente che è eh la violenza alle donne per cui eh la protagonista è come dire fin da bambina vittima ma incontrerà nella sua strada altre vittime quindi c'è questo tema generale eh c'è il giallo perché a un certo punto ci si sverificheranno a Napoli alcuni strani avvelenamenti e non si capisce bene da dove derivino ma poi andando avanti in questa storia che aveva appunto una sua trama i suoi personaggi che si era arricchito tra l'altro del di un altro tema generale questo tipico del del diciamo della letteratura per ragazzi il la crescita di un rapporto di amicizia tra queste due ragazze una è una giovane privilegiata e l'altra invece che poi la mia protagonista è una ragazza che fa la serva nella casa per cui c'è questa storia di amicizia tra due ragazze che cresce eh sotto gli occhi dei genitori un po preoccupati perché non è eh normale non è accettabile un'amicizia fra ragazze di classe sociale così diverse per cui c'era già tutta una storia dopodiché effettivamente mi sono trovata a dovermi o o meglio piacevolmente a poter inserire dare un contesto storico più ampio a questa stessa vicenda perché mi sono eh come dire trovata costretta a tener conto di quello che stava succedendo nel frattempo nella casa regnante di Altavilla la sterilità del matrimonio del re la necessità di attribuire a Costanza il il diritto di successione che eh a Costanza d'Altavilla il diritto di successione eh gli intrighi che il feudalesimo normanno e non solo si mettono a si mettono ad attivare per evitare che Costanza eh erediti eh soprattutto dopo il matrimonio con il figlio di di Federico e quindi questo libro è poi cresciuto per il piacere di poter scoprire che questa storia è nata un po' per caso eh aveva tutto il diritto di come dire di trovare un proprio spazio in un contesto più ampio voglio dire un po' un prequel mi vergogno nel dirlo della sposa normanna per intenderci nel senso che eh di fatto quello è l'epoca nella quale questa vicenda è ambientata è interessante eh magari dovrebbe leggerlo anche qualche adulto ma secondo me questa volta proprio perché è un libro che è cresciuto e qui devo anche ringraziare la casa editrice perché mi ha fatto lavorare diciamo non è andata bene la prima ho dovuto farlo crescere eh perché sì è una vicenda costruita su più livelli eh con tanti personaggi nei libri prima avevano delle storie più esili più semplici qui invece abbiamo una dimensione del romanzesco eh in cui davvero la dimensione storica a un certo punto ha una sua rilevanza ecco per cui ho un po' sostituito l'impossibilità di descrivere tanti monumenti a Napoli perché non quell'epoca non cioè non è documentata mi sono spostata ovviamente su eh descrizioni invece di Palermo che naturalmente in quanto capitale eh aveva monumenti che sono poi rimasti e quindi è una storia molto meridionale come è giusto che sia una storia ambientata in epoca normanna ehm ma è anche molto più ricca in termini di trama di avventura non dico che ogni capitolo c'ha qualcosa però forse sì ecco eh senz'altro una possibilità di conoscere il Mediorevo c'è tanta quotidianità eh ma anche di farsi trascinare da una storia che è una storia di amicizia una storia di intrighi politici eh una storia dove eh appunto nella città di Napoli a un certo punto tutta una serie di personaggi si ammalano stanno male e non non si capisce bene da che cosa derivi ecco per cui ci sono tanti livelli credo che possa funzionare anche cioè lo lo so perché qualche lettore me l'ha già confermato può funzionare anche eh per con un lettore più adulto ecco questo se questo credo proprio di poterlo dire polvere di vipera poi è un è un è un gran bel titolo è un gran bel titolo non è mio infatti avevo scelto un titolo più filosofico ma questo è veramente bellissimo quando me l'hanno proposto ho detto vai è il suo quindi lo lo ricordiamo per bene perché polvere di vipera di Anna Lisa Ponti appena pubblicato da ancora edizioni sono duecentosettantadue pagine per quindici euro quindi anche dal punto di vista economico è utile e poco poco costoso no? E quindi correte in libreria a comprare polvere di vipera di Anna Lisa Ponti che io ringrazio tantissimo per il nostro vivido e ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi grazie ancora Anna Lisa e buona giornata anche a te e a voi tutti arrivederci che l'allegrenza del sant'amore sa c'è gente chiara di lucente e chiara che non si senta pala fa darne iniziare il suo grande addore grazie a tutti grazie a tutti